blocco, ancora Alivegovic, blocco adesso portato da Diop Alivegovic cerca Pinkins, Pinkins risponde presente ma non con la realizzazione a rimbalzo Jason Clarke che vada Diop, che si appoggia Diop a smettere di attaccare Verona ha già praticamente esaurito il bonus dal prossimo giro in lunetta dal prossimo giro come dire favorevole dal punto di vista dei fatti più di 20 punti a partita è come suicidarsi dichiaratamente in trans agonistica come nel miglior anime del Detective Conan perché poi in quel caso non lo dipinghi di questi momenti fa pesare le mani, fa pesare di più il pallone e questi tre punti sono aria fresca Conan gira il suddetto Shaw e poi Green dentro Flak tiene piuttosto bene, poi ribaltamento che favorisce Rosselli che ha ancora una, rimbalzo straordinario intanto di Diop mamma mia che rimbalzo di Diop mamma mia Diop mamma mia! Busciati in campo, Busciati che va insieme a Diop a raddoppiare Rosselli per Sopini bravissimo esca di Franco Busciati su tutto il campo quella roba lì la vedi solo se sei molto intelligente impressionante giocatore veramente roba per palati finissimi ragazzi dentro in... probabilmente è una delle ragioni possibili non che siano tante va indietro Busciati è in poca! Green che riesce in qualche modo a arginarlo si va da penna scarico per Busciati palla dentro per Pinkins si è mosso Diop 4 e di fine quarto vanno praticamente all'unisono ancora Green contro Pinkins che prova a recuperare ma Green punisce primi tre minuti del terzo quarto zero punti a referto a proposito di culpabile per Green Pini ha bisogno di Severini Severini arriva scarica per Sacchetti che attacca benissimo close out e Pini non si intendono e arriva invece l'intesa tracca Choms prova a iscriversi a questo secondo tempo niente da fare attacca Severini e chi fa quella chiusura? la fa Camp... ma Busciati sbaglia Carotti torna in punta torna da Tomassini di media che ha la partita dopo una brutta poi ha perso di Severini stranamente vorrei aggiungere ci ha messo Busciati il suo movimento di class premiato Pini va a poter fare grande passione al numero tre di Torino che trova Pinkins che alza la mano sei colpevole Jusman colpevole di grande talento di grande fisicità positivo per la formazione veneta in questo finale che diventa sempre più difficile sempre più impossibile forse man mano che passano i secondi Alibagovic va al tiro Alibagovic 5 4 7 Carotti ancora lo scarico per Sacchetti che vede delle buone cose non percentuali eccelsi a cui ci ha abituato però sicuramente un fattore molto più incisivo incisiva il grifo vince il suo nome 5-1 la partita di scelera e ancora una volta qui nella nostra casa passiamo un po' insieme questo è 5-1 questo